Jeep Cherokee Active Drive in allestimento limited a trazione integrale con motorizzazione 2002 da 200 cavalli del 2018 e con 85 mila chilometri e partiamo subito dagli esterni dove non abbiamo nessun danno da segnalare sulla carrozzeria gruppi ottici originali a led fari fendinebbia, circhi lega da 18 pollici, frecce integrate negli specchietti, kit cromo, apertura keyless, vetri privacy e barre porta tutto. Spostandoci sul posteriore troviamo sensori di parcheggio posteriori, doppio scarico cromato, videocamera posteriore e bagagliaio ad azionamento elettronico molto ampio. Cose importanti da sapere sulla storia della vettura è che l'attuale e unico proprietario ha acquistato l'auto a chilometri zero. Adesso spostiamoci negli interni dove non abbiamo nessun danno da segnalare. Sedili in pelle con cucitura a contrasto, regolazione elettrica dei sedili come degli specchietti, alza cristalli elettrici, volante in pelle con nessun danno da segnalare, cruise control, richiamo vocale, display per l'infotainment col sistema di navigazione, diverse modalità di guida e cambio automatico a nove rapporti. Vi ricordo che potete venire a vedere e provare l'auto su strada. Inoltre, per visionare il servizio fotocompleto e avere maggiori informazioni riguardo il prezzo e gli accessori, cliccate sui link in descrizione.